Un'esperienza di grande impatto, quella vissuta giovedì mattina da circa 300 studenti delle quarte e quinte classi del polo scolastico superiore di Codigoro, i ragazzi sono stati protagonisti di un incontro educativo nella discoteca Capris in occasione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e la strada per andare lontano, promossa dalla prefettura di Ferrara. L'iniziativa, visto la partecipazione di numerosi enti e istituzioni, i ragazzi sono stati coinvolti in una serie di attività pratiche e simulazioni, tra cui test con etilometri, prove di alcol test e simulazioni dei rischi derivanti dall'assunzione di alcol alla guida utilizzando occhiali alcolemici e visori in 3D. Durante le simulazioni molti giovani hanno compreso con chiarezza come anche un piccolo quantitativo di alcol possa compromettere la percezione e la capacità di reazione al volante. Un momento particolarmente toccante è stato quello delle testimonianze di vita reale. Emanuele Pantaleoni, che da giovane fu vittima di un gravissimo incidente stradale mentre era in scooter, ha raccontato le difficoltà vissute, tra cui fratture multiple e coma cerebrale. Una testimonianza che ha lasciato tutti senza parole, così come quella di Morena Mazzanti, madre di un ragazzo coinvolto in un incidente a 18 anni, che ha riportato danni permanenti a causa dell'impatto con un'auto che viaggiava a velocità folle. Dopo 27 anni non vogliamo abbracciare dei bambolotti ma vedervi vivere, ha concluso la mamma in un silenzio carico di emozione. Si è appena conclusa un'importante iniziativa sulla sicurezza stradale. Ringrazio il prefetto Massimo Marchesiello per aver coinvolto anche il Comune di Codigoro in questo progetto denominato Una strada per andare lontano. Abbiamo coinvolto 300 ragazzi del polo scolastico superiore, delle classi quarte e quinte e come Comune di Codigoro abbiamo scelto di portarli in un ambiente a loro congeniale, la discoteca, il Capris. Qui hanno avuto modo di ascoltare non solo le forze dell'ordine, ma anche di fare delle prove pratiche come ad esempio i tappeti alcolemici, video e visori dove hanno potuto sperimentare cosa significa anche a volte fare delle scelte sbagliate e prese con troppa leggerezza. Un ringraziamento naturalmente a tutti gli enti, a tutte le associazioni e alle forze dell'ordine oltre che ancora la prefettura di Ferrara per aver dato questa occasione ai nostri ragazzi. Un incontro che ha sicuramente lasciato un segno profondo nei ragazzi facendole riflettere sul valore della vita e sull'importanza di comportamenti responsabili al volante.